Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Buonasera a tutti e ben ritrovati con il nostro primo laboratorio operativo in opzioni per quanto riguarda questo 2021. Oramai siamo al nono anno, l'anno prossimo 2022 decennale sicuramente dovremmo fare qualcosa di importante per festeggiare tutti questi anni in diretta insieme a voi. Quindi anche quest'anno ripartiamo come sempre da quello che deve essere un po' la base del nostro guadagno. In questa prima sessione quindi dedicheremo un po' di tempo proprio a questo, a quello che è la nostra strategia basilare, quindi il vertical spread. Soprattutto andremo a vedere anche un pochettino, due righe, ecco su che cosa è successo nel 2020. Vedremo cosa ci aspettiamo nel 2021, poi andremo come sempre a proporre un paio di strategie sul nostro conto reale e poi insomma una panoramica anche di tutto quello che facciamo. Quindi una sessione dedicata sia a chi ancora non ci conosce ma anche a chi ovviamente ci segue già da tempo con un poco di operatività. Quindi prima di tutto andiamo a vedere proprio graficamente che cos'è questa strategia, che cos'è questo nostro vertical spread. All'intanto ci tengo anche a dire a tutti coloro che magari non hanno chiari certi punti che andremo a trattare, certi argomenti insomma che andremo a vedere. Ecco c'è comunque sia qui su YouTube, trovate sempre il link in descrizione, proprio il corso base dedicato alle opzioni che vi introduce. Quindi che cosa sono le opzioni, come si possono utilizzare fino ad arrivare anche alla nostra strategia base che è il vertical spread. E ci tengo insomma la prima cosa che sicuramente bisogna sapere del vertical spread è che è una strategia non direzionale. Quindi noi fondamentalmente guadagniamo dai mercati andando a indovinare, anche se ovviamente è un termine che non mi piace molto perché quelle che facciamo noi ovviamente non sono operazioni fatte a casaccio ma tutte tramite una serie di indicatori e indicazioni che vediamo poi all'interno del nostro trading club per il quale noi diciamo ok, io non lo so che cosa succederà sui mercati nei prossimi due mesi, tre mesi, sei mesi, insomma le opzioni hanno una scadenza varia ovviamente ma ho una ragionevole idea di immaginare quello che non succederà e come sapete sui mercati è più facile indovinare diciamo quello che non succederà piuttosto che quello che succederà soprattutto quando abbiamo una scadenza da rispettare perché è molto difficile diciamo azzeccare una previsione se in più abbiamo anche il tempo che ci gioca contro. è un po', qui faccio un esempio ecco per chi magari segue lo sport o segue il calcio è un po' come dire scommetto sul risultato finale di una partita e devo azzeccare il risultato esatto 1-0, 2-0, 3-0 oppure dico ok, io non lo so quale sarà il risultato ma secondo me questa partita non finisce 3-2 questo è un po' l'esempio e se ovviamente la nostra idea si rivelerà azzeccata noi otterremo un profitto da questo perché questo tipo di operatività faccio un esempio proprio così eh non è un'operazione che ho intenzione di fare ma giusto per darvi un'idea questo è il grafico dell'ETF dello Standard & Poor's 500 SPY si chiama vedete negli ultimi sei mesi è cresciuto molto possiamo prenderlo anche un anno vediamo vedete vi ricordate l'anno scorso il mercato crollato a marzo e poi è cresciuto è cresciuto è cresciuto è cresciuto quindi uno cosa potrebbe dire ok il mercato è già cresciuto tantissimo sono anche diversi mesi che non fa nemmeno un piccolo storno perché se vedete è dal 13 di ottobre più o meno vedete dal 12 di ottobre fino al 30 di ottobre ha avuto questo piccolo storno di un 8-9% però poi dal 30 di ottobre è stato novembre, dicembre e adesso siamo insomma già quasi tutto gennaio quindi arriviamo bene o male a tre mesi senza aver avuto un nuovo storno che statisticamente si verifica ogni 3-4 mesi quindi l'idea quale potrebbe essere ok io non lo so quello che succederà nei prossime settimane non lo so se il mercato magari salirà ancora un po' rimarrà laterale o addirittura crollerà però secondo me da qui a due mesi non arriverà a 400 perché è già cresciuto molto è normale che il mercato storni un pochettino per un milione di ragioni che ovviamente poi si possono trovare quando andiamo a lavorare insomma sui mercati finanziari e se noi andiamo ad indovinare questa quest'idea questa operazione ovviamente incassiamo un premio quindi otteniamo un guadagno e questa è la vendita diciamo di un'opzione naked quindi un'opzione secca dove si vende per l'oppunto a mercato altra cosa invece è la strategia che facciamo noi le strategie che facciamo noi sono vertical spread noi non facciamo vendite naked vendite secche di opzioni o meglio le facciamo solo in alcuni casi ad esempio le vendite di put se vogliamo essere assegnati ma questo è tutto un altro discorso che poi si vede nel percorso nei laboratori operativi noi quello che facciamo comunque sono sempre operazioni coperte dove ad esempio io vendo una call strike 400 e mi copro coprendomi per l'appunto acquistando una call strike 405 piuttosto che 410 questo poi ovviamente si valuta insieme in base chiaramente a tutta una serie di regole perché faccio opzioni coperte perché quando si vendono opzioni nude questo lo dico per chi si sta approcciando per la prima volta a questo strumento ecco quando si vendono opzioni nude il rischio è potenzialmente illimitato cioè noi guadagniamo abbiamo un profitto che è certo 50, 100, 200, 1000 dollari ma dei rischi che sono potenzialmente illimitati e noi non possiamo assolutamente permetterci di fare operazioni dove i nostri rischi sono potenzialmente illimitati perché l'idea di trading che io voglio far passare l'idea di investimento che io voglio far passare non è quella di una speculazione esasperata ed esagerata non mi interessa raddoppiare il conto tutti gli anni se a fronte di quel raddoppio noi non dormiamo più la notte perché noi ci rivolgiamo comunque a persone che tendenzialmente sono persone impegnate hanno un lavoro magari una famiglia insomma hanno tutta una serie di loro impegni e non possono dedicare i mercati 18 ore al giorno l'idea della nostra operatività è ok io metto l'operazione metto magari una stop loss se ho tempo posso anche sistemare aggiustare l'operazione quando mi racconto altrimenti pazienza mi prendo la stop loss però nel momento in cui si è operativi non più di una mezz'oretta al giorno poi se gli vogliamo dedicare un'ora, due ore, tre ore al giorno si può sempre fare ma deve essere un piacere una cosa che ci va di fare e non assolutamente un obbligo perché altrimenti vi posso assicurare che qualunque cifra riuscite a portare a casa se va ad alterare quelli che sono i vostri equilibri di vita quotidiana non ne vale poi più la pena quindi questa è un po' la base della nostra operatività delle nostre strategie poi vedremo anche quali risultati si possono ottenere grazie a queste a questa operatività a questo sistema di trading che noi andiamo ad utilizzare però prima di tutto questo volevo anche proprio vedere un momento che cosa è successo nel 2020 e quelli che sono i nostri risultati diciamo nell'anno scorso perché avrete già visto nel materiale che mandiamo via mail piuttosto che sul nostro sito che l'anno scorso per le opzioni è stato un anno abbastanza difficile perché nonostante che abbiamo avuto degli ottimi rendimenti perché comunque un 20% l'abbiamo portato a casa è stato decisamente inferiore rispetto a quella che era la nostra media degli anni passati cioè un 40% su base annua e questo lo dico senza senza problemi sinceramente è stato anche dovuto per quanto riguarda le operazioni fatte qui sul nostro conto reale perché ci tengo a dirlo per chi non ci conoscesse questi risultati vengono presi dalle operazioni che noi poi facciamo sul nostro conto reale quindi sono certificate certificabili non è che me li invento i numeri quindi mi raccomando questo ci tengo sempre a precisarlo però che cosa è successo che l'anno scorso paradossalmente siamo riusciti a gestire bene il periodo febbraio marzo tanto da arrivare bene o male a giugno mi ricordo giugno che eravamo già in profitto bene o male questi giorni qua verso fine giugno eravamo già in profitto del 20% su base annua poi in realtà che cosa è successo che sinceramente io non mi aspettavo un mercato così forte mercato forte che mi ha fregato mettiamola così in quelle che sono state poi le operazioni che sono andate ad impostare tanto che nei mesi conclusivi dell'anno abbiamo guadagnato almeno io su questo conto ho guadagnato poco e nulla e questo è stato un po' il mio errore cioè cercare di anticipare il mercato invece di di seguirlo perché mi sono fatto prendere da quelli che poi sono tutta una serie di bias comportamentali che vediamo anche con la finanza comportamentale con la nostra Silvia Pallavicini cioè ho iniziato a credere che una volta che il mercato avesse recuperato diciamo i livelli precedenti alla alla crisi di covid quindi periodo estivo sarebbe sceso nuovamente perché comunque i livelli erano insostenibili e lì mi sono sbagliato perché il mercato ha continuato a crescere ha continuato a salire e come spesso accade dopo le elezioni se vi ricordate avevamo detto che un'eventuale vittoria di Biden insomma avrebbe potuto destabilizzare i mercati finanziari invece come vedete qui bene o male i primi giorni di novembre ci sono state le elezioni e se vedete praticamente nel giro di due mesi e mezzo cioè dal primo novembre fino all'otto di gennaio il mercato ha fatto lo standard in pure un altro 17% ma se guardiamo ad altri indici importanti che noi guardiamo ad esempio il Russell 2000 ha fatto addirittura il 40% guardate qua più del 40% in due mesi e mezzo quindi mercato che è ripartito la grande sinceramente mi ha colto un poco impreparato quindi questa è stata un po' la situazione poi altra situazione anomala è stato anche il comportamento di certi strumenti parlavamo ieri sera con il nostro Mario Padovani e l'investor di come sia importante più che mai adesso rimanere collegati con noi o comunque sia con i mercati finanziari perché sta cambiando sta veramente un po' cambiando il mondo dei mercati uno su tutti vi posso dimostrare l'oro l'oro che l'anno scorso non stato un mercato fortissimo come potete vedere ha avuto una crescita impressionante perché siamo arrivati adesso qui diamo anche un poco più indietro guardate il mercato l'anno scorso avete visto quanto è cresciuto e l'oro comunque sia dal primo gennaio dell'anno scorso un certo momento era addirittura in crescita del 34% e adesso comunque siamo più o meno su questi livelli qua 172 173 è comunque in profitto di più del 20% e questa è sicuramente un'anomalia anomalia che sta comunque ad indicare un certo nervosismo da parte degli investitori altra anomalia quella del VIX su cui di cui parleremo perché sto approfondendo il discorso del VIX di come le opzioni abbiano influenzato proprio l'andamento della volatilità perché guardate la volatilità prima del del crollo diciamo dovuto al al covid sarebbe che allargo un pochettino così lo vedete bene quando i mercati erano sui massimi la volatilità si aggirava su questi livelli qua no minimo a 12 poi magari arrivava a 15 però quello era il livello no livello medio 12 14 poi cosa è successo che c'è stato il crollo sui mercati volatilità è arrivato oltre 80 poi certo è scesa ma non ha mai più rivisto i livelli precedenti nonostante che i mercati comunque sono forti sono sui massimi vedete come minimo ha toccato i 20 adesso siamo a 23 24 quindi ci sono diverse anomalie che l'anno scorso ci hanno colto un pochettino impreparati ma non rifaremo questo errore diciamo anche nel corso dell'anno ora questo ovviamente non è un problema perché comunque abbiamo ottenuto un risultato positivo anche l'anno scorso però siamo chiamati ovviamente a fare sempre un pochettino un pochettino meglio quindi cosa ci aspettiamo per questo 2021 è sempre difficile no fare questo tipo di previsioni ecco per non fare gli errori che poi sono stati fatti l'anno scorso non mi voglio lanciare in in previsioni particolari però di una cosa sento di poterla dire sento di poter dire che probabilmente i mercati inizieranno a stornare effettivamente un po' di più paradossalmente quando finirà l'emergenza relativa alla pandemia che stiamo vivendo questo perché i mercati l'anno scorso comunque sono cresciuti i mercati azionari i mercati finanziari soprattutto grazie all'enorme liquidità che è stata immessa nel mercato da parte delle banche centrali soprattutto negli Stati Uniti e dicevo anche questo ieri nel percorso diciamo nel nostro Investors Club cioè nel giro di pochi giorni gli Stati Uniti hanno lasciato a casa decine di milioni di lavoratori che ovviamente non potevano più lavorare e gli hanno dato 600 dollari a settimana cosa che chiaramente in Italia in Europa non si è visto neanche per sogno a chi è andata bene ha preso la cassa integrazione comunque vedendosi ovviamente un decurtamento del 20% del proprio salario a chi è andata male si è preso i 500-600 euro anzi a chi è andata media si è preso i 500-600 euro al mese a chi è andato male non ha preso niente quindi anche questo è il motivo per il quale vediamo i mercati azionari americani che sono cresciuti così tanto e quelli europei che sì si sono ripresi ma non hanno rivisto i livelli diciamo pre-covid lo possiamo vedere anche tramite l'euro stocks che racchiude un po' i principali azioni europee l'euro stocks 50 guardiamo l'indice vedete qui c'è stato il crollo ha perso più o meno un 40% quindi più o meno in linea con i mercati americani ma ancora adesso siamo ancora sotto dai livelli di febbraio dell'anno scorso di un 6% questo ha testimonianza il fatto di come i mercati europei abbiano reagito molto molto più lentamente rispetto a quegli americani quindi abbiamo poi anche altri indicatori come ad esempio il petrolio ci dicono un po' come si sta muovendo l'economia reale anche il petrolio ha recuperato veramente molto velocemente non mi aspettavo di vederlo già qui possiamo vedere il grafico perché vediamo se ce la fa recuperare l'anno quando andiamo sul grafico continuous ma fondamentalmente eccolo qua vedete il petrolio che comunque dopo aver toccato i livelli praticamente sotto zero è già ritornato sopra i livelli di 50 e se guardiamo il grafico qui siamo su un futures dovremmo vedere l'indice comunque sia il petrolio ha ripreso i livelli pre-covid però questo è strano perché posso accettare ecco che i mercati finanziari viaggino a un'altra velocità rispetto all'economia reale perché sappiamo che i mercati finanziari si muovono sull'idea di un'aspettativa i mercati adesso sono così forti proprio per tutta una serie di incentivi che sono stati fatti ovviamente per sostenerli ma nel momento in cui questi incentivi spariranno e paradossalmente l'economia reale si riprenderà vedrete che l'economia finanziaria invece avrà un nuovo storno e come vi dicevo mi ha sorpreso diciamo questo movimento così forte del petrolio perché comunque sia il petrolio è molto più legato all'economia reale all'adesso e vedere un petrolio che è sui livelli pre-crollo dovuto dal covid mi sorprende in quanto comunque sia le economie sono ancora indietro cioè i consumi sono ancora indietro basta pensare agli aerei agli spostamenti delle merci cioè i consumi comunque sono ancora indietro quindi questa cosa sul petrolio sicuramente fa un poco un poco pensare quindi sinceramente per questo 2021 non voglio fare particolari previsioni se devo fare una previsione più breve periodo ecco mi aspetto un mercato abbastanza tranquillo potrebbe ecco fare uno storno uno storno normale per quanto riguarda il mercato è uno storno nell'ordine del 10% quindi dai 380 che ha toccato se anche dovesse ritornare più o meno sui 350 quindi per darmi un'idea per chi guarda il future cioè dai 3008 dovesse tornare a 3500 sarebbe assolutamente accettabile ma anche un rientro a 360 quindi 200 punti sono assolutamente accettabili all'ordine del giorno però preferisco ecco non muovermi non fare operazioni non ribassiste fino a che non vedo un po' di sorno perché chiaramente non me ne vado neanche a cercare sapendo che il mercato comunque questi storni di un 5-6% vedete anche l'anno scorso al di là del crollo che ha avuto a marzo poi dopo che si è ripreso bene o male dopo tre mesi ha fatto uno storno a giugno poi dopo altri tre mesi ha fatto uno storno a settembre poi dopo un mese solo un altro storno ottobre adesso insomma sono già quasi tre mesi che non si muove quindi non voglio neanche diciamo andarmela a rischiare diciamo così fino a questo punto ora venendo diciamo un po' alle operazioni alle strategie ecco che ci tenevo a proporre ieri abbiamo visto per quanto riguarda diciamo la trading room lo starter pack in opzioni come strategia una strategia sull'oro in questo caso sul futures quindi ticker gc e prendiamo il continuous di febbraio poi nel caso ci spostiamo più in là con la scadenza guardiamo un po' il futures che movimento ha avuto come si sta comportando come potete vedere fondamentalmente l'oro dopo la crescita che abbiamo visto ha avuto un discreto storno perché comunque sia è sceso di un 15% poi ha provato a recuperare e adesso come vedete è ritornato un po' in questo range che ha come supporto ultimo questo livello a 1780 e come ulteriore supporto intorno a 1780 10 l'idea che ci siamo fatti o che mi sono fatto per quanto riguarda l'oro è che comunque adesso sta un po' più rientrando in un valore di prezzi accettabile certo può girare intorno a questo range quindi 1780 assolutamente li può rivedere però non è più così sopravvalutato e i mercati azionari comunque restano sui massimi nel momento in cui ha avuto questa discesa lo vedevamo l'anno scorso ha avuto uno dei soprattutto verso novembre ha avuto uno dei sell off più importanti mai visti l'oro da parte proprio dei come si dice dei grandi investitori istituzionali l'avamo visto tramite dei grafici poi comunque si è ripreso quindi siamo su livelli un pochettino più accettabili visto che l'oro comunque se il mercato crolla tendenzialmente tendenzialmente riprende un poco di valore l'idea era quella di approfittare di questi livelli di prezzi diciamo medio bassi rispetto agli ultimi mesi per impostare una strategia non ribassista sicuramente andando a vendere una put sotto questi livelli di 1780 ma anche se si riesce sotto questi livelli di 1710 allora andiamo a vedere un poco che cosa offre il nostro option trader ovviamente in questa sessione non so spiegare tutte le motivazioni non so spiegare tutto quello che guardiamo per selezionare un'opzione perché questo lo trovate poi nell'academy dopo vi faccio fare un breve tour però non posso neanche spiegarvi tutto in mezz'ora altrimenti molto bellamente non ci seguite più le trading club ma soprattutto vi darei solamente un'illusione che in mezz'ora di potervi passare tutto quindi vediamo un po' come scadenze allora abbiamo categoria di trading prendiamo OG come scadenze abbiamo febbraio 35 giorni un poco troppo vicino noi preferiamo stare sui due mesi quindi andiamo a marzo attenzione quando si prendono i futures perché vedete quando prendiamo l'opzione di marzo il sottostante di riferimento cambia non è più quello di febbraio ovviamente ma è quello di aprile che ha una quotazione leggermente diversa perché quello di febbraio quota vedete 1839.8 quello di aprile quota 1843 quindi se volessimo essere proprio precisi dovremmo guardare il grafico di aprile che ovviamente sarà identico solo con qualche piccola vedete si va qui di più molteplici 2021.04 eccolo qua questo è aprile guardiamo il grafico vedete quel livello che vi dicevo quindi si è sempre sui 1780 non cambia molto e anche qui vedete si si comunque 1715 invece di 1710 però non cambia molto quindi ritorniamo dal nostro option trader come regola noi andiamo sempre con un delta inferiore a 20 e vediamo fin dove riusciamo andare sui futures riusciamo anche andare delta 15 ancora meglio vediamo un poco allora allora adesso io costruirò l'operazione secondo me potremmo fare 1695 con 1690 che poi era l'operazione suggerita proprio ieri 1695 con 1690 poi ci tengo anche a precisare che in genere nei laboratori operativi ora questi sono laboratori operativi aperti a tutti quindi non lo possiamo fare però ovviamente diamo ampio spazio anche alle domande adesso so che collegata con noi c'è la nostra Noemi Santiloni che si occupa proprio di raccoggere le vostre domande di proporre all'interno una sessione ma nella sessione di oggi oggettivamente diventa troppo difficile perché ci sono tanti partecipanti aperto a tutti e viene difficoltoso ma poi nelle sessioni tra virgolette normali tutto questo viene fatto comunque andiamo sul tasto combinazione costruiamo la nostra strategia ok ok eccoci qua qui abbiamo quindi un BDASC di strategia che va tra 0.2 e 0.8 in genere noi non entriamo mai al prezzo di mercato perché comunque il valore delle opzioni si muove nel corso della giornata quindi il livello minimo di ingresso è almeno a midpoint quindi tra 0.2 e 0.8 sarebbe 0.5 però siccome io sono un po' un taccagno metto 0.6 e che cosa significa mettere 0.6 0.6 vedete significa che si incassa un premio di 60 dollari tolte le commissioni sui futures le commissioni sono quelle un po' più costose vedete per fare questa strategia è 4.74 dollari vuol dire che incassiamo netti 55 dollari però quanto capitale mi prende questa operazione guardate un po' qui margine iniziale questo noi ce l'abbiamo in sterline 178 sterline in dollari saremo 200 circa 220 quindi con la nostra calcolatrice intanto trasmettiamo con la nostra calcolatrice calcoliamo aspettate che eccolo qua eccolo qui sono 55 dollari diviso il margine di circa 220 moltiplicato 100 questo che vedete è il ROI cioè il ritorno sul nostro investimento il ritorno sulla nostra operazione che come potete vedere sono il 25% in circa due mesi ora non tutte le operazioni pagano così tanto in genere in genere non prendiamo il 25% in due mesi in genere prendiamo magari un 5-6-7% su base mensile quindi la metà di questo perché qui prendiamo così tanto perché stiamo lavorando su un futures che comunque sfrutta un po' di effetto leva e ci chiede un margine un po' piccolino però il massimo rischio come si calcola fondamentalmente è la differenza fra lo strike venduto lo strike acquistato moltiplicato per il moltiplicatore del futures che è 100 quindi è 500 meno il premio incassato quindi meno questo eventuale 60 dollari quindi il massimo rischio è 440 siccome noi non vogliamo arrivare a perdere 440 altrimenti tutti i nostri calcoli si vanno a perdere mettiamo una stop loss in modo tale da perdere al massimo 120 quindi andiamo ad allegare l'ordine stop il perché mettiamo uno stop a questi livelli ovviamente spiegato sempre nei nostri video più avanzati però vi basta sapere che questo è quindi noi fondamentalmente che cosa facciamo l'idea è il massimo profitto 60 dollari la massima perdita è ah no scusate devo metterlo a 1.8 perché 1.8 meno 0.6 fa 1.2 la massima perdita è 120 dollari perché non abbiamo un rischio rendimento 1 a 1 ma è semplicemente perché quando lavoriamo con le opzioni in vendita non è come quando andiamo in direzionali dove in teoria abbiamo il 50 e 50 giusto ma qui invece abbiamo una statistica che è molto più a nostro vantaggio qui in genere in genere partiamo con tre scenari positivi su quattro perché noi abbiamo venduto qua a 1.695 ok significa che se l'oro sale se resta laterale o si scende un pochettino ma non arriva ai nostri 1.695 a scadenza noi ci portiamo a casa il premio quindi in tre scenari su quattro l'unico scenario in cui perdiamo è ovviamente se l'oro crolla quindi non possiamo permetterci di avere un rapporto rischio rendimento di 1 a 1 perché a noi basta pensate per rimanere in pari sapendo che una stop ci brucia due profit basta farne giuste due su tre e noi quantomeno non perdiamo sui mercati il nostro obiettivo però non è di farne giuste due su tre ma il primo obiettivo è di portare a casa il 70% delle strategie come obiettivo ultimo per chi ci segue di arrivare a portarne a casa 3 su 4 perché portarne a casa 3 su 4 vuol dire fare un 3-4% su base mensile arrivare a farne giuste l'80% vuol dire arrivare a fare anche un 5% su base mensile qui non è semplicissimo arrivare a farne giusto l'80% però vi dico 3 su 4 ci si può arrivare ci si può arrivare perché poi ovviamente dopo un po' di tempo subentra anche un poco d'occhio subentra anche un pochettino più di abitudini e di conoscenze e di pratica poi stasera avevo anche una seconda idea operativa ma non la vado ad applicare poi preferisco rivederla magari venerdì nell'ulteriore laboratorio operativo comunque era fondamentalmente sull'euro di cui già vi avevo parlato l'intenzione era quella sempre di vendere delle put per quanto riguarda l'euro poi la spiegheremo meglio venerdì quest'operazione perché per quanto mi riguarda l'euro quest'anno l'euro dollaro potrebbe rimanere un po' più in un range che potrebbe stare tra 1,20 1,25 quindi l'idea qual è come sempre di sfruttare magari una discesa che ha avuto tra l'altro rimbalzato bene su questo livello qua di 1,21 che è proprio vedete dopo che aveva fatto la sparata il gap quindi l'idea anche qui di vendere delle put non so fino a dove si riesce ad andare poi lo vedremo venerdì però per stasera vi lascio al momento con questa operazione cina operazione cina tranquilla tra l'altro se non volete tra virgolette rischiarvela sul futures potete riproporre anche la stessa identica idea sull'etf con GLD che si muove esattamente allo stesso modo vedete si può fare anche su GLD ovviamente sotto questi livelli qua di 166 possibilmente intorno a 160 insomma fin dove riuscite a prendere un prezzo decente come vi dicevo allora volevo un attimo anche mostrarvi una piccola panoramica questo per chi non ci conosce è la nostra academy che ovviamente è riservata a chi ci segue il trading club e andiamo sulla parte opzioni se mi ci fa andare eccoci qua come vedete c'è ulteriore materiale quindi c'è sempre la didattica base con due ulteriori video molto importanti cioè criterio di selezione per la vendita e per l'acquisto in opzioni così non riesce anche a capire quello che deve fare opzioni sottostanti cioè le differenze tra lavorare con gli etf con le opzioni su etf su azioni su futures e anche le opzioni di lunga durata poi abbiamo ulteriori video avanzati come il gamma trading analisi di una situazione estrema quindi cosa fare quando i mercati crollano e un altro corso base alpha strategies income della durata addirittura di sette ore dove si va veramente molto nello specifico abbiamo poi video dedicati proprio all'utilizzo delle opzioni e la piattaforma e poi diciamo vabbè del materiale extra dove si trovano degli ebook watch list di opzioni gamma trading guida tutte le varie strategie di opzioni abbiamo poi tutti i laboratori operativi registrati ma soprattutto i domande e risposte vedete dove qui potete porre tutti i vostri dubbi le vostre domande e come potete vedere ci sono i nostri coach che rispondono bene o male un po' a tutti i vostri dubbi quindi se avete una proposta o qualcosa che non vi quadra ovviamente potete condividerlo qui all'interno della nostra academy ci tengo anche a precisare che noi come strategia base guardiamo il vertical spread ma ovviamente non è l'unica cosa che facciamo non è l'unica cosa che vediamo poi nel corso delle settimane e dei mesi questo è un po' la base quello che vi permette di mettere diciamo il pane a tavola poi ci sono tante altre strategie che per noi sono diciamo la ciliegina se vogliamo sulla torta o meglio visto che parliamo di pane diciamo il caviale da mettere poi sul nostro pane quindi una base bisogna avercela poi ovviamente con il passare del tempo sarete in grado di scegliere voi stessi che cosa fare altro strumento che invece qui ci tengo a mostrare è il nostro t-option questo è rivolto ovviamente a chi già conosce le opzioni a chi già magari ci ha seguito nei nostri percorsi però purtroppo non ha tanto tempo da dedicare ai mercati magari non sempre riesce a trovare quelle due o tre strategie a settimana da mettere ai mercati giustamente si scoccia perché insomma le possibilità ce le avrebbe anche ma per colpa del tempo non riesce a farle che cosa fa il nostro t-option fondamentalmente mette mediamente due o tre strategie a settimana da delle proposte consigliandole anche in base al vostro profilo di rischio qui prendo un esempio abbiamo una strategia su Procter & Gamble un bull put dove vedete vi fa vedere l'operazione con il grafico di Procter & Gamble sotto l'RSI e qui vedete anche gli strike quindi 125-120 con le aree di ingresso secondo le regole ovviamente di chi ci conosce poi potete anche girare tra tutte le varie strategie che sono state proposte anche qui c'è un altro bull put ad esempio su su Baba in questo caso ma poi ovviamente avete degli strumenti ulteriori come la Basic Chart dove potete mettere tutti gli indicatori del mondo e sui futures potete mettere anche le stagionalità proprio perché è un prodotto che comunque sia è in commistione con l'Alpha 4 Chart e questo diciamo esiste dal dicembre 2018 e in questi ultimi due anni e mezzo no sì più di due no scusate no 2018 2017 sono tre anni che c'è ormai il nostro t-option e in questi tre anni mediamente il risultato è stato dell'incirca di un 2.5% su base mensile quindi diciamo ci ha dato tante tante soddisfazioni fondamentalmente propone delle strategie basandosi anche su elementi che magari noi non riusciamo a vedere come l'analisi sui volumi però se volete avere maggiore informazione ovviamente richiedetele che saremo ben lieti di darvele tra l'altro abbiamo abbassato tantissimo l'abbonamento quindi se siete interessati insomma questo è il momento e a proposito poi di diciamo di promozioni tutto quello che stiamo facendo vi ricordiamo quindi se volete seguire un mese di laboratorio operativo in opzioni quindi 8 fondamentalmente di queste sessioni la cifra richiesta è di soli 99 euro come sempre trovate il link in descrizione per poter accedere invece di 350 euro in questo modo avete la possibilità di conoscerci senza diciamo investire delle cifre che magari vi mettono sotto stress e vi assicuro che 99 euro è davvero un grande regalo è un'offerta a tempo valida solo fino al 24 di gennaio domani palinsesto che cosa avremo migliori strategie di trading in azioni in beta della settimana strategy starter pack in commodities spread trading quindi la strategia in per trading del giorno e poi il laboratorio operativo in spread quindi andremo a vedere insieme al nostro Matteo Anelli per l'appunto che cos'è lo spread trading sicuramente ci sarà qualche strategia anche da andare a inserire sulla nostra piattaforma e ovviamente avrete modo di toccare con mano come poi raggiungiamo i nostri risultati anche sulle materie prime io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto tutti domani ciao